Allora, buongiorno, spero vi avete preso un caffè bello forte nell'intervallo, perché mi servite attenti, nel senso che la ricorsione è un argomento un pochino denso, diciamo così, concettualmente, come molte delle cose di informatica non c'è moltissima teoria, gli ingredienti di base sono pochi, ma poi comprenderli, metterli in pratica ci richiederà e dedicheremo due settimane piene a fare una serie di esercizi per riuscire a padroneggiare questo strumento. In breve, quando si parla di ricorsione cosa si intende? Tecnicamente è una funzione che richiama se stessa, in Java non ci sono le funzioni, quindi diciamo un metodo che richiama se stesso, direttamente o indirettamente, cioè vuol dire che all'interno di una classe abbiamo un metodo A che all'interno dell'implementazione di questo metodo a un certo punto c'è una chiamata a this.a, cioè chiamo il metodo stesso all'interno dell'implementazione del metodo. Ovviamente chiamare, il fatto che una funzione o un metodo possa chiamare un altro metodo non è un problema, uno chiama l'altro, l'altro chiama l'altro, l'altro chiama l'altro e così via. Il problema è che a un certo punto nasce quando io chiamo me stesso, perché il rischio se A richiama A, nell'implementazione di A verrà ovviamente visto che è la stessa, verrà di nuovo chiamato A, che di nuovo chiamerà A e così via. Quindi si innesca una serie di chiamate annidate potenzialmente infinite, un po' come questa immagine è qua, della televisione che inquadra se stessa e all'interno di ogni copia c'è un'altra copia di se stessa e così via. Questo sarebbe il meccanismo di base, ovviamente bisogna domarlo perché una successione infinita di chiamate a funzioni che nessuna ritorna mai è inutile. Allora cerchiamo di capire come funziona il meccanismo e come renderlo utile alla risoluzione dei problemi. Quindi da oggi cominciamo a porci delle domande che non sono semplicemente risolubili dicendo ok qui ho i dati e faccio un acquirio risultato. Quindi non sono solamente problemi di ricerca di informazioni o dati, ma cominciano ad essere problemi di ottimizzazione o ricerca di soluzioni che non sono direttamente evidenti. La ricursione ci aiuterà molto a impostare questo tipo di ricerca di soluzioni. Qui ho scritto un metodo che richiama se stesso direttamente o indirettamente, perché chiaramente se il metodo A chiama B, B chiama C e poi C chiama A, ovviamente avremo di nuovo il meccanismo ricorsivo in cui il metodo A alla fine chiama se stesso, non direttamente nel senso che non è nel codice della propria implementazione la chiamata se stesso, ma nel codice di uno dei metodi chiamati, quindi alla fine in sostanza è la stessa. Si cerca di evitare chiamate di ricorsione indiretta, ma a volte funzionano esattamente nello stesso modo. Quindi questo comportamento di una funzione che richiama se stessa non è vietato da nessun linguaggio di programmazione e quindi vediamo come possiamo sfruttarlo nella costruzione di algoritmi. Per fortuna questo non è bene. Allora noi di definizioni ricorsive, sono pieni libri di matematica, quante volte avete visto la definizione di fattoriale espressa in questo modo, cioè il fattoriale di 0 è 1, il fattoriale di n è n moltiplicato per il fattoriale di n-1. Che poi noi mentalmente sviluppiamo questa cosa, ma se poi a sua volta il fattoriale di n-1 sarà n-1 che moltiplica il fattoriale di n-2 e il fattoriale di n-2 a sua volta sarà n-2 che moltiplica il fattoriale di n-3 e così via. Quindi in matematica purtroppo sono frequenti definizioni di questo genere che sono molto compatte, tanto compatte quanto a volte criptiche, però ci dà una regola generale, ci dà una regola generale su come risolvere, usiamo parloni grossi, come risolvere il problema di dimensione n, il fattoriale di n, se io sapessi risolvere o se qualcuno abbia risolto per me il problema di dimensione n-1. Cioè come dire, io so quanto vale il fattoriale di n meno 1, se qualcuno mi dice quanto vale il fattoriale di n-1, perché lo prendo e lo moltiplico per n, cioè il risultato. Quindi in qualche modo io riesco a trasformare un problema di dimensione n in un problema di dimensione n-1 e ti do la regola per risolverlo. Poi devo trovare qualcuno che sappia risolvere il problema di dimensione n-1. A volte se sono più bravo riesco a trasformare in un problema di dimensione n mezzi magari, non solo n-1, però l'importante è che sia più piccolo. Allora c'è qualcuno che sa risolvere il problema di dimensione n-1 riguardo al calcolo del fattoriale? E beh sono di nuovo io, perché mi basta riapplicare lo stesso meccanismo, quindi io chiedo a un mio amico di risolvere il problema di dimensione n-1, lui è capace e in realtà il mio amico sono sempre io, una copia di me stesso, che mi sposto di un passo, divento la copia di me stesso, mi chiedono il problema di dimensione se n valeva 10 e adesso mi chiedono il problema del 9 fattoriale. Io ti so dire, guarda io sono una regola, per cui ho un amico che è capace di calcolare il 8 fattoriale, quindi io chiedo a lui di calcolare il 8 fattoriale, poi alla fine lo moltiplicano per 9 e ti dirò quanto fa 9 fattoriale, così il primo me stesso potrà dire ok, prendo questo numero e lo moltiplico per 10. Ma l'amico del 9 ovviamente dirà, senti mi serve un amico che sappia calcolare il fattoriale di 8 e cosa fa? Fa una copia di se stesso che applica lo stesso meccanismo, calcolerà il fattoriale di 8 e come fa a calcolare il fattoriale di 8? Beh, cerca un amico che sappia calcolare il fattoriale di 7 e poi lo moltiplica per 8, sempre più in qua, adesso poi è finito qua a pedana, poi cado. soppogliamo che, però come dal punto di vista del primo me stesso, come gli altri calcoli non il fattoriale, non mi interessa, l'importante è che la persona alla mia destra sappia farlo, in qualunque modo, magari questo qua al fondo che deve calcolare il 7 fattoriale, c'è una tabella con i fattoriali, dice ma guarda io ho già il risultato, perché è già tabulato, o lo so a memoria, perché sono nato così, sui fattoriali di 7 a memoria, ce l'ho tatuato sul braccio, non mi importa come lui lo calcola, l'importante è che il suo risultato una volta che ci sia, viene passato all'amico dell'8 che dice ok, questo numero qua che è 7 fattoriali, io non ce l'ho tatuato quindi non mi so dire quanto valga, lo moltiplichiamo per 8 e questo è il mio risultato e quest'altro signore dice ah che bello, grazie per il risultato, lo moltiplichiamo per 9 e questo è il mio risultato, fin tanto che il primo che aveva questo problema del 10 fattoriale, prende il fattoriale di 9 e lo moltiplica per 10, quindi al di là della sceneggiata che ho fatto, la ricorsione è così, poi non lo useremo mai per calcolare il fattoriale perché era stupido, basta fare una moltiplicazione dentro un ciclo foro, però concettualmente io ho un problema di una certa dimensione, da quel problema cerco di trovare un modo di risolverlo con la clausola se solo sapesse risolvere un problema identico ma più piccolo, cioè decompongo un problema in una coppia di se stesso ma più piccolo, ovviamente devo trovare, non tutti i problemi si prestano ad essere decomposti in questo modo, però dove ci riesco posso applicare questa strategia, ogni volta decompongo un problema in un problema più piccolo e quindi chiederò a una coppia di me stesso di risolvere quel problema che gli affido e ovviamente è più piccolo e questo tendenzialmente farà la stessa cosa rispetto al problema che riceve che a sua volta cerca di decomporre in problemi più piccoli, più semplici da risolvere e così via. Fino a quando? Fino a quando nel caso del fattoriale abbiamo un punto di terminazione della ricorsione, la ricorsione non è infinita, a un certo punto quando arrivo a chi conosce già il risultato perché 0 fattoriale vale 1 oppure 7 fattoriale ce l'ho tatuato sul braccio sinistro, mi fermo, non c'è più bisogno di andare avanti con questo meccanismo o un risultato. Allora parte la seconda fase in cui tornano indietro tutte queste chiamate ricorsive ciascuna riportando il risultato parziale che poi viene messo insieme per calcolare il risultato totale. Quindi nella ricorsione c'è sempre una fase di discesa profonda e poi una fase, quando alla fine l'ultimo in fondo ha risolto qualche cosina, torna su e si mettono insieme i risultati. E questo se vogliamo è il principio del dividetimpero dei nostri cari imperatori passati che dicevano io qua ho un impero molto grande da gestire, lo divido in varie regioni e ciascuna delle quali la gestisco, la conquisto separatamente e dopodiché ovviamente faranno parte, le riunirò verso queste strategie belle che oggi non funzionerebbero più tanto, ma l'idea è comunque quella di avere un problema troppo grande da affrontare in un sol boccone e spezzarlo in due problemi più piccoli. Se io volessi sapere, che ne so, all'interno di quest'aula chi è nato prima? No? Tra di voi. Allora ho tanti modi per farlo, no? Però siete tanti, quindi non è che posso dirvi, ma ditemi chi è, tutti parlano insieme e non si capisce più niente. Allora potrei dire, ok sentite, facciamo, dividiamo il problema in due, la metà sinistra e la metà destra dell'aula. Quindi cominciamo a capire chi è nato prima tra la metà sinistra dell'aula, poi capiremo chi è nato prima tra la metà destra dell'aula e poi avrò due persone, una che risolve il problema sinistro, l'altra che risolve il problema destro. E allora mi è facile perché basta confrontare la data di nascita di due persone e lo so fare. Quindi io ho ricondotto il problema di trovare la persona più vecchia all'interno di un'aula a tre operazioni, quattro. Prima dividi l'aula in due, facile, tiro una riga, voi siete di là. Trova la persona più vecchia della metà sinistra, di una della metà dell'aula e cos'è questa? È una versione dello stesso problema su dei dati più piccoli. Terzo passaggio, trova la persona più anziana della metà di destra, versione del stesso problema su dati più piccoli, quindi un sottoproblema uguale. Quarto passo, confronta i due vincitori e il più anziano tra queste due persone sarà la persona più anziana di tutta l'aula. Quindi ho preso un problema di dimensione n, l'ho diviso in due problemi di dimensione n mezzi. Poi a questo punto, anche qua farò lo stesso giochino, chi è capace di risolvere il problema di dimensione n mezzi, cioè trovarmi la persona più anziana della metà sinistra dell'aula, chiamano un metodo per risolverlo, che guarda caso ha lo stesso metodo di prima. E lui ragionerà così, diciamo ok c'è un'aula, una mezza aula, un insieme di persone di cui devo trovare chi è nato prima, la dividerò a metà, ad esempio che ne sono le prime cinque righe e le ultime cinque righe. Quindi divido, impero, cioè comando, eseguo, risolvo il problema, conquisto la prima metà, la metà anteriore della metà sinistra, conquisto la metà posteriore della metà sinistra e metto insieme in modo da avere tra chi è più anziano della metà anteriore e chi è più anziano della metà posteriore, due persone, le confronto e avrò il vincitore della metà sinistra. Ovviamente la metà anteriore di mezza aula è ancora fatta di troppe persone e allora dovrò risolvere questo problema, ma se eravate 80 adesso qui siamo scesi a 20 persone. Allora dico, tra queste 20 persone che sono la metà anteriore della metà sinistra dell'aula, chi è la persona più anziana? Chiamiamo qualcuno che sape risolvere questo problema, che sono sempre io, che applicherò sempre lo stesso metodo, ne ho 20, sono troppi, dividiamoli in metà, 3 banchi, 3 banchi, avete capito come girano la cosa e vado avanti così fino a quando mi trovo un problema banale, in cui dividi che suddividi, mi trovo o questi due banchi qua in cui non c'è nessuno, e allora è facile, dico che non c'è soluzione, o questi due banchi qua in cui c'è solo lui, e beh, allora è lui, o questi banchi dove ci sono loro due, e allora li confronto loro due. Cioè, alla fine, a furia di dividere, io costruisco copie sempre più piccole del stesso problema, e a un certo punto ci saranno delle copie così piccole che si risolvono guardandole semplicemente, senza più necessità di, non è che vado a dividere uno in metà dicendo, senti, la tua parte sinistra è più vecchia della tua parte destra, no, quindi mi fermo a un certo punto quando il problema diventa così semplice che lo posso risolvere con metodi tradizionali, semplici, ad occhio, diciamo così. Nel frattempo ho tutto questo castello, no, che mi ha permesso di gestire in modo ordinato la suddivisione del problema. Perché? Perché sono stato capace di fare due cose, uno è prendere un problema e dividerlo in due problemi più piccoli dello stesso identico tipo, due, avendo la soluzione ai due problemi so come metterli insieme per ottenere la soluzione complessiva, perché in questo caso l'essere più grande è transitivo, quindi basta uno rappresentante di qua e uno rappresentante di là, per altre proprietà potrebbe non essere, no? Dipende ovviamente come è fatto il problema. Quindi la ricorsione cosa ci dà? Ci dà un metodo per esplorare tutte le possibili sottoproblemi o una famiglia di sottoproblemi la cui unione mi dà la soluzione. questo, quello della persona che è nata prima, è un problema semplice, perché è un problema di calcolo, di ricerca, anche qua volendo avremmo potuto fare un loop, no? Ma ci sono dei, molti problemi invece che sono più complicati, proprio da esplorare, no? Io avrei potuto dire, se ne sarete 80 persone qua, partiamo dal primo, andiamo avanti così per file, non c'è bisogno di farci tutto questo meccanismo. Però se io mi chiedessi, che so, quali sono le due persone, adesso mi invento una cosa che magari non ha molto senso, la cui somma dei giorni di nascita sia più piccola, oppure in questo caso no, perché potrei fare il minimo di uno, il minimo dell'altro, ma la cui combinazione, che ne so, le date al luogo di nascita ha una certa proprietà. Per dire, mi serve una proprietà che non sia più del singolo, ma delle coppie. Allora dovrei, innanzitutto, posso farlo enumerando le coppie, ma devo avere un meccanismo che mi generi tutte le coppie. Allora, vabbè, per trovare le coppie di elementi ho un doppio loop, due cicli annidati, ma se anziché le coppie fossero gruppi di da 3 a 8 persone, ho un meccanismo per generare tutti i gruppi da 3 a 8 persone, comincia a diventare complicato farlo con dei cicli fora. Oppure tutti i gruppi di persone, tali per cui, che ne so, la somma dei crediti complessivamente non superi 500. Allora, non ti so neanche dire quante persone sono, credo di trovare tutti i gruppi più possibili che complessivamente abbiano minore o uguale 500 crediti. Allora, sicuramente ogni singolo lo è, ogni coppia di due lo è, tre hanno, no, non è detto, dipende, quattro persone non tutti i casi. Per dire che molto spesso i problemi di ottimizzazione o di ricerca cercano un massimo o un minimo di una certa quantità, prima della data di nascita, al massimo o al minimo, ma lo cercano su un insieme che non è facilmente definito, non è l'insieme degli elementi che ho a disposizione, ma un insieme fatto di sotto insiemi, di permutazioni, di combinazioni, a partire da elementi dati. Allora, anche solo generare, per poter esplorare queste combinazioni, queste permutazioni, questi sotto insiemi, è complicato. E con la ricorsione invece lo si riesce a fare in modo molto semplice. Allora, a livello di pseudocodice, quindi, ogni problema ricorsivo cerchiamo di schematizzarlo più o meno in questo modo, no? Abbiamo un metodo solve che risolve un certo problema. Il modo ricorsivo di impostare la soluzione di questo problema è, chiaramente, una funzione solve che prende le informazioni sul problema da risolvere, che sono l'elenco delle persone, o una procedura per dividere il problema in sottoproblemi. Nel caso del fattoriale si divideva il problema in un sottoproblema, da n a n-1. Nel caso dell'aula si divideva un problema ogni volta in due sottoproblemi, magari lo posso dividere in 18, dipende dai casi, ovviamente. L'importante è che io riesco a trovare un modo di dividere un problema in uno o più sottoproblemi e questi sottoproblemi siano dello stesso tipo. Perché mi serve che siano dello stesso tipo? Perché io voglio applicare il metodo solve allo stesso sottoproblema, a ciascuno dei sottoproblemi. Cioè, non mi vado a inventare una funzione solve1 per risolvere il problema generale, solve2 per risolvere il sottoproblema diviso in 2 e solve4 per risolvere il sottoproblema diviso in 4, e queste funzioni devono fare cose diverse, perché altrimenti mi perdo, devo fare infinite funzioni. Se riesco a costruire però il sottoproblema dello stesso tipo di quello di partenza, posso riusare la stessa funzione. E quindi chiamo il metodo solve tante volte, per la metà finistra e per la metà destra, due volte. E ogni volta che chiamo questo metodo lui mi darà una soluzione del sottoproblema. e poi devo sapere come mettere insieme le soluzioni di sottoproblemi per darmi una soluzione complessiva. Quindi divido e ricombino. Il metodo solve alla fine non fa niente se non dividere, chiedere a qualcun altro che puoi a se stesso di risolvere e poi ricombinare le soluzioni. che viene restituita come soluzione o al main, diciamo, al programma principale, oppure al livello successivo. Chiamo solve, che a sua volta chiamerà solve, che a sua volta ridivide il sottoproblema che chiamerà solve, che a sua volta ridivide il sottoproblema che chiamerà solve. e quindi abbiamo una serie di chiamate annidate. A un certo punto, quando uno restituisce la soluzione, la restituisce, che sei giù al livello 100 della ricorsione, la restituirà al livello 99, poi al livello 99 la restituirà al livello 98 e così via fino al primo livello in cui la restituisci al tuo main, o al tuo modem, insomma, che ti aveva chiesto questa cosa. Ovviamente, scritta così, non si arriverà mai il return, perché qui effettivamente sto facendo solo chiamate solve, ogni funzione che chiama solve, ogni funzione che chiama solve, ma quando è che arriva il return? In questo codice manca un pezzo, no, manca il caso terminale. Il caso terminale è quando mi accorgo che questo blocco di sotto è uguale a quello di prima, identico, sono scritto con un fondo un pochino più piccolo, perché non volevo fare spazio al blocco di sopra, che è il caso semplice. A un certo punto, a furia di… per questo è importante che ogni volta che divido un problema, il sottoproblema debba essere più piccolo, perché poi ho una, se vogliamo, un teorema di monotonicità che mi dice che a un certo punto se riduco ogni volta il problema o diventa un problema di dimensione 1 o dimensione 0 e quindi risolubile. Se io ogni volta facessi un sottoproblema sempre della stessa dimensione ci giro intorno, invece ogni volta il problema deve diventare più piccolo, deve esserci una quantità di questo problema che si riduce e a un certo punto il problema diventa talmente piccolo che è banale. Allora vuol dire che se il problema è banale io lo posso risolvere, fatemi dire direttamente, dove per direttamente intendo non usando la ricorsione, usando altri metodi, confronto diretto, c'è un elemento solo quindi è lui o cose di questo genere. Allora a questo punto se il problema è piccolo faccio una soluzione diretta e quindi questa soluzione, qui c'è un bel else che mi fa arrivare finalmente al return. ritorno a soluzione e quindi nel caso del problema piccolo lo risolvo e restituisco la soluzione. Ma questa soluzione restituita dove va a finire? Va a finire qua come valore di ritorno di solve nella chiamata precedente a livello superiore e che quindi mi dà una sottosoluzione che poi combinata con le altre può essere restituita a sua volta a livello O. Quando comincio a ritornare un valore di fatto innesco una cascata di ritorni perché ogni funzione ritorna e poi a sua volta come col fattoriale, il fattoriale è più facile perché ogni funzione ne chiamavo una sola quindi quando l'ultima ritorna a cascata tutti i ritorni. Con la divisione dell'aula è un pochino più complicato perché quando ho la soluzione della metà sinistra prima di andare avanti e di tornare alla mia soluzione dovrò aspettare la soluzione della metà destra quindi fare tutte le ricorsioni dentro la metà destra. Qua è il cuore, è tutto qua, nel senso che dobbiamo riuscire a digerire, capire, diciamo così, padroneggiare questo schema di lavoro che ha il vantaggio che ci permette di esplorare tante combinazioni diverse, tante soluzioni diverse, con un codice che è estremamente compatto. perché alla fine veramente ci sono poche righe, io devo capire quando un problema è banale, saper risolvere il problema banale, ma se è banale lo risolvi in una riga o due di codice, capire come dividere un problema, che può anche solo dire la metà sinistra e la metà destra, dividere in due, e capire come ricombinare la soluzione, in confronto a una somma di solito. Fine. Quindi un problema che sembra complicato, alla fine lo scompongo in passettini ciascuno di quali semplici, però messi dentro una macchina molto potente che riesegui questi passettini in modo sistematico una quantità enorme di volte, perché poi le chiamate ricorsive sono tante, e alla fine mette insieme una soluzione. La prima volta che uno vede un codice ricorsivo dice ma dov'è effettivamente che risolve il problema? Ecco, nell'albero di ricorsione. Proviamo a prendere un problema semplice e proviamo a risolverlo in modo ricorsivo. Ad esempio, il problema semplice potrebbe essere, se lo faccio semplicemente un progetto Java, niente di speciale. E lo chiamo anagrammi. Cioè, data una parola, troviamo tutti gli anagrammi di questa parola qua. Quindi definiamo una classe e magari prima creiamo un package e facciamo... Vabbè è uguale, non preoccupiamoci della complessità del progetto. Anagrammi. Nel package lo possiamo chiamare... Vabbè, mettiamo sempre tdp qua. E ci mettiamo un main. La semplicissima classe... In cui voglio fare un metodo che, data una parola, mi restituisca tutti gli anagrammi di quella parola. Ok? Quindi, in questa classe anagramma definisco un metodo public. Restituisce tutti gli anagrammi di una parola. Quindi cosa scriverà? Una registra di string. Di una parola. E quindi ha come parametro di partenza una parola sola. Quindi avrò il mio main che vorrà fare una cosa del genere. Anagramma. A uguale new anagramma. E poi farò... Penso a system.out. Print line. Di a.anagrammi di ciao. Ok. Chiara l'interfaccia del metodo. Adesso pensiamo all'implementazione. Allora, qui c'è il passo più importante, il passo ricorsivo. Pensato. Dobbiamo pensarci. Cosa pensiamo? Possiamo pensare che... Gli anagrammi di ciao... Sono... Ditevi se vi piace. Tutte le parole che iniziano con la C... Seguite da un anagramma di Yao. Poi... Tutte le parole che iniziano con la I... Seguite da un anagramma di C...A...O... C...A...O... Poi... Tutte le parole che iniziano con A... Seguite da un anagramma di... C...I...O... Poi... Tutte le parole che iniziano con O... Seguite da un anagramma di... C...I...A... Le abbiamo fatte tutte, no? L'ho detto così perché... Perché mi è facile a questo punto dire, va bene... L'anagramma di una parola... Il problema del calcolo di un anagramma di una parola... Lo decompongo in sottoproblemi... Che isolando ciascuna lettera di questa parola... Ok? Concatenino la singola lettera con l'anagramma della parte restante... Delle lettere restanti... Quindi io mi calcolo l'anagramma di C...A...O... Concatenando la C con uno degli anagrammi di Yao... E gli anagrammi di Yao... Li calcolerò, va usando di nuovo la stessa funzione... Ma... Lavora, questa funzione lavora con stringhe di... Tre lettere, non più quattro... Quindi sono sceso di un livello di complessità... Poi a sua volta la funzione che chiamerà... Che isolerà la gramma di Yao... Farò lo stesso ordinamento... I più gli anagrammi di Yao... A più gli anagrammi di Io... O più gli anagrammi di Ia... E a sua volta chiamerà la funzione l'anagramma con una stringhetta da due... L'anagramma è una stringa da due... Secondo me... E me al contrario... Quindi... Come decomporre il problema? Estrarre una lettera per volta... Della stringa data... Come ricombinare le soluzioni? Beh, aggiungi tutte le soluzioni che trovo a quelle che ho trovato prima... Ok? Quindi io dovrò costruirmi una mia lista di soluzioni... A cui via via aggiungerò... Questa lista di soluzioni sarebbe bene che fosse una variabile... Una lista unica in cui tutti quelli che trovano una soluzione... La aggiungo... Ma ci arriviamo... Proviamo... Prima a decomporre... Facciamo prima una versione semplice in cui stampiamo qualche cosa... Poi dopo costruiamo la soluzione della data risultante... Allora... Abbiamo... La parola che ha una certa lunghezza... E quindi decompongo il problema... In tanti sottoproblemi... Quanti sono le lettere della parola... Ok? Avrò... La posizione... Uguale 0... Pos minore di parola... Punto size... Length... Length... Pos più più... Quindi... Se la parola è lunga 4... Io avrò... Quattro iterazioni di questo ciclo for... Da cui estrarò... Una lettera... Che è... La lettera... Nella certa posizione... Quindi parola... Punto... Char... At... Pos... E le lettere restanti... Sono tutte le lettere che precedono la posizione... Più tutte le lettere che seguono questa posizione... Quindi qua devo un pochino diventare... Ring... Le lettere restanti... Cosa sono? Sono parola... Punto... Come si chiama? Substring... Eccolo qua... C'è un substring... Che è dato a una stringa... È dato a un indice di partenza... Un indice di arrivo... Mi estrae una sottostringa... No? Dove... L'indice di partenza... È quello che ho specifico... E si estende fino al carattere... Dell'indice di arrivo... Meno 1... Quindi quello... L'indice di arrivo che indico... È escluso... Ok? Oppure c'è la versione... Solo con l'indice di partenza... Che arriva fino al fondo della stringa... Quindi vuol dire... Che io devo prendere... Tutti i caratteri... Prima di questo pos... Substring... Da 0... A pos... Escluso... Ma questo già me lo esclude... Substring... Più... Tutti i caratteri... Da posp1... Al fondo... Vediamo se abbiamo fatto una cosa decente... Print... Line... Restanti... Aspetta... Giusto per verificare... Che non abbiamo fatto errori stupidi qua... Mettiamo di tornare solo per riuscire a compilare... Vediamo cosa esce... Cioè in teoria... Queste due righe... Fanno l'operazione di divisione del problema in sottoproblemi... E infatti mi dice... C seguito da Yao... I seguito da Cao... A seguito da Cio... O seguito da Cia... Questa è la lettera... E queste sono le restanti... Ok... Adesso... Ho preso una parola da quattro lettere... E lo decomposto in quattro... Il problema di quattro lettere... Lo decomposto in quattro problemi da tre lettere... Risolvo ciascuno di essi... E quindi mi chiederò... Quali sono... Date le lettere restanti... Gli anagrammi delle parole delle lettere restanti... Quindi sarò una lista di string... Anagrammi... Restanti... Delle lettere restanti... Chiamando il metodo... Anagrammi... Con la parola che contiene le lettere restanti... Proviamo a fare... Per capire cosa succede... Per capire cosa succede... Diciamo che ogni funzione... Mi stampa la parola che ha ricevuto... Ehm... Print... Allora io... Ho messo un'unica print all'inizio... In modo che ogni volta che chiamo quella funzione... Vedo la funzione... Quale problema riceve l'ingresso... Questo è l'output che ho trovato... Ciao... È la prima chiamata che ha fatto il main... Poi la funzione... Diciamo la funzione ciao... Cioè... Il metodo anagramma che riceve come argomento... Il problema ciao... È stato decomposto... E il primo sottoproblema era Yao... Quindi cosa succede... Che... Anagrammi che ha ricevuto ciao... Ha fatto questo lavoro con pose uguale 0... E ha fatto sì... Restanti è Yao... E ha chiamato anagrammi con Yao... Adesso noi vediamo questo for... Che a un certo punto passa a pose uguale 1... Pose uguale 2... Pose uguale 3... Può passare a pose uguale 1... Solamente dopo che questo qui ha finito di lavorare... Quindi questo anagrammi restanti... Che lavora con 3 lettere... A sua volta rifarà lo stesso ragionamento... Farà un pose uguale 0... Quindi la prima lettera di Yao è I... E le lettere restanti saranno Au... E fa la chiamata ricorsiva su Au... Ci si perde... Ma... Proviamo a vederlo in debug... Magari ci si perde... Uguale... Ma forse un po' meno... Metto un break point qua all'inizio... E vediamo passo passo cosa sta succedendo... Allora io... Eseguo la prima istruzione... Mi stampa ciao... E fin qua era facile no? Ho il main che chiama anagrammi... Qua a sinistra c'è l'elenco delle chiamate delle funzioni... Poi... Questo ciclo for... Vabbè... Un ciclo for sulla parola punto length che vale 4... Pose uguale 0... Primo valore iniziale... Pose uguale 0... Ce l'abbiamo qua questo per lo zero... Poi... Le lettere restanti... Abbiamo visto... Beh... Lo sapevamo calcolare... Abbiamo già visto prima... Sono i... Però era bene... Fin qua... Tutto facile... Adesso... C'è la chiamata ricorsiva... Ha senso... Perché il restante è una stringa di tre lettere... Voglio gli anagrammi di questa... Vabbè... Chiamo la funzione e chiamo gli anagrammi... E qui... Entro dentro la funzione... Faccio un step into... Nella... Debugger... E... Il codice è tornato su... Cioè io... Ero alla riga 14... Sono tornato alla riga 8... Occhio... Sono tornato alla riga 8... Sono sempre alla riga 14... Di questa chiamata anagrammi... Ma adesso è nata un'altra funzione... La vedete qua... Sulla sinistra... Che è stata chiamata... Dalla prima funzione... E questa funzione anagrammi... Ha... La sua copia... Della variabile parola... Che... Yau... Non è più ciao... E avrà la sua copia... Della variabile pose... La sua copia... Della variabile lettera... È una funzione... Un metodo... Pardon... Che ha le sue variabili locali... I suoi valori per i parametri... Indipendenti da quelli... Della funzione che l'ha chiamata... E quindi... Anche qua... Se vado avanti... Stamperà questo Yau... E poi... Lo separerà... All'interno del ciclo for... Composizione uguale a zero... Prenderà la prima lettera... Che è... I... E le restanti che sono... Ao... E poi dice... Bene... Io adesso ho bisogno degli anagrammi di Ao... A chi le chiedo? Le chiedo... A questo metodo anagrammi... Entrando dentro... Vedo che sono... Al terzo livello di chiamata... All'inizio di una funzione... Che al terzo livello di chiamata... Riceve come parametro... Ao... E come fa? Come fa? Fa che... Entra dentro... Prende... Imposta un ciclo for... Per tutte le lettere... Della parola che ha ricevuto... Che sono due... Quindi la lettera sarà... E le restanti... E la O da sola... Io qui non gli ho detto nulla di più... E quindi lei continua ad applicare... Sempre lo stesso metodo di divisione... Anche se ormai ci sembra quasi inutile... Fa ancora una chiamata... Stamperà la parola... Che a questo punto... Poverini... E rimasta la O da sola... E questo ciclo for... Cicla su una posizione sola... Quindi la lettera... La lettera O... Le restanti... E la stringa vuota... Però nessuno ne ha detto di fermarsi... E quindi... Cercherà di calcolare... Gli anagrammi della stringa vuota... E quindi farà una quinta... Chiamata ricorsiva... Io qua sono all'inizio... Della quinta chiamata ricorsiva... Vedete che la quarta... È bloccata dalla Liga 14... La terza è bloccata dalla Liga 14... L'altra è bloccata dalla Liga 14... La prima è bloccata dalla Liga 14... Sono tutte bloccate... Sulla chiamata ricorsiva... In attesa che... Ciascuna... Attende che la chiamata ricorsiva... Ad essa immediatamente successiva... Termini... Adesso questa qua... Poveretta l'ultima... Che riceve come parola la stringa vuota... Non fa nulla... Perché? Ma perché questo ciclo for... Pos minore di parola punto length... Non farà nessuna iterazione... E quindi... Questo ciclo for... Ci aspettiamo che... Non faccia nulla... Non entro nel ciclo... E quindi non propago... Non vado avanti all'infinito... Perché a un certo punto... Non genero più nuove soluzioni... Non ho più materiale... Per poter generare nuove soluzioni... Allora in questo caso... La quinta chiamata... Restituisce... In questo caso... Ritorna nulla... Adesso dobbiamo poi costruirla... Effettivamente... Però ritorna... Eh... Sono stupido io... Ho fatto run anziché step... Ritorna... Quindi... Dalla quinta chiamata... Scende la quarta... Non c'è più la quinta... Che è rimasta qua in attesa... Vado avanti... Questa qui... Era la quarta... Riceveva... A... O... Come parametro... Provo a fare una seconda iterazione... Ma non ci riesce... Perché la stringa allunga solamente una posizione... Quindi... Ho finito la quinta... Perché non c'era nulla da iterare... Ho finito la quarta... Perché ho iterato su una lettera... Ed era l'unica che avevo... Vado avanti... Muore la quarta chiamata... Sono la terza... La terza chiamata raccoglie il risultato... E poi vede se ci sono altre cose da fare... Poiché la parola aveva due lettere... La terza chiamata... A questo punto... Ha preso come prima volta la lettera A... E l'O come resto... La seconda volta prenderà... La lettera O... E A come resto... Quindi qui sono al terzo livello... Dal terzo livello non torno immediatamente al secondo... Perché il terzo livello doveva avere... Doveva fare due... Aveva due sottoproblemi... Uno l'ha risolto... L'altro lo risolve adesso... E lo risolve come? Ovviamente chiamando di nuovo un quarto livello... Che lavorerà su una lettera sola... Il quale si trova la stringa vuota... E chiama un quinto livello su questa stringa vuota... E questo quinto livello a sua volta... Non farà nulla... Ristorna... Poi ritorna al quarto... Perché non c'è più nulla da fare... E finalmente sono al terzo livello... E posso... Sono al terzo livello... Ho fatto... Ho risolto due sottoproblemi... Due ne avevo da risolvere... E quindi questo ciclo for... Ha finito... E posso tornare al secondo sottolivello... Il secondo sottolivello... Aveva una parola da tre lettere... Ha esplorato la prima... Quella che iniziava con la I... E dovrà esplorare quella che inizia con la... Con la seconda lettera che è la A... E i restanti sono... Io... Lui aveva... IAO... La I l'abbiamo provata... Adesso proviamo a prendere la A... E andiamo a grammare io... Quindi... Ogni volta... Una chiamata di un livello... I... Può ritornare... Solo dopo... Che quella chiamata di livello I... Ha risolto tutti i sottoproblemi... Di livello I più 1... E questa chiamata di livello I... A sua volta... Verrà attivata tante volte... Se la chiamata di livello I meno 1... Decompone tanti problemi di livello I... E quindi ogni volta... Chiamano questa chiamata di livello I... Quindi noi abbiamo una... Una chiamata a livello 1... In nostro caso... Ciao... Che chiama quattro volte... Il livello 2... Con le parole di tre lettere... Ciascuna di queste quattro chiamate... Chiama tre volte il livello 3... Ciascuna chiama due volte il livello 2... Che chiama una volta il livello 1... E non chiama niente... Il livello 4... E chiama una volta solo il livello 5... E li muore tutto... Quindi... Adesso abbiamo fatto metà... Del lavoro di ricorsione... La decomposizione... E ci siamo rendi conto... Che effettivamente abbiamo creato... Dei sottoproblemi... Che sono tutti gli anagrammi da calcolare... Via via più piccoli... Adesso cominciamo a restituire qualche cosa... Allora... Qual è il punto in cui ci possiamo fermare? Allora stoppiamo questa esecuzione... E abbiamo visto che lei va avanti anche su parole... Ovvie da... Anagrammare... Allora noi potremmo verificare... Qual è il caso più semplice che abbiamo? La parola fatta da una lettera sola... La parola fatta da una lettera sola... L'elenco degli anagrammi di tale parola... È un elenco fatto da un elemento solo... Cioè lei... Essa... Quindi... Prima di... Mettere in campo... Tutta la... Ricorsione... Quindi la... Divisione sottoproblemi... Quello che potrei fare... È controllare... Se... Parola punto length... Length... Fosse uno... Allora... Lo so risolvere... Altrimenti... Vabbè... Altrimenti... Faccio tutto... Quindi questo ciclo for... Lo farò dentro... Solo se... La lunghezza della parola è maggiore di uno... Quindi vale la pena di decomporre... E... Se ho una parola di lunghezza uno... Qual è la lista dei suoi anagrammi? Beh... Una lista che contiene solo quella parola lì... Quindi potrei creare... Una... Return... Eh... No... Devo creare... Una... List... String... Risultato... New... Ma facciamo delle linked list... Si stringa... Faccio una lista... Perché devo restituire una lista... Quindi mi serve un oggetto di tipo lista... Che contenga... Questa stringa qua... Quindi il risultato... Punto... Add... Di... Parola... E poi a questo punto... Posso anche fare un return di questo risultato... Quindi... Nel punto terminale della ricorsione... Immaginiamoci questo albero di chiamate le funzioni che si ramificano... Al fondo al fondo... Ci sono le funzioni che ricevono un problema banale... E restituiscono un risultato banale... La lista fatta di una parola di una lettera sola... E cosa me ne faccio di questi risultati? Eh... Li userò qua... Quando invece devo fare il ciclo for... Cosa devo fare? Devo prendere... Gli anagrammi... Che saltano fuori dal mio primo sottoproblema... E schiaffarci davanti la prima lettera... Poi gli anagrammi che saltano fuori dal secondo sottoproblema... Schiaffarci davanti la seconda lettera... E così via... Quindi nel caso in cui devo... Diciamo così... Decomporre il problema e i sottoproblemi... Avrò un modo diverso di calcolare il risultato... Quindi anche qua potrò calcolare una lista di... String risultato... Uguale... New... Linked list... String... E poi alla fine... Alla fine dell'iterazione del ciclo for... Ritornerò... Il risultato... Quindi alla fine questo ritorno nulla... Alla fine non serve a nulla... Perché io restituisco il risultato... Calcolato in modo diversi... Nei due rami del mio if-else... Allora vediamolo così... Quindi se la parola è lunga 1... Problema banale... Soluzione banale... Se la parola è più lunga di 1... Problema non banale... Lo decompongo... E poi restituisco la soluzione... Cosa devo fare qua? E beh dovrò prendere... Una volta che ho la soluzione del sottoproblema... Devo aggiungere... Le soluzioni di questo sottoproblema... All'elenco delle soluzioni del mio problema... Quindi dovrò da questi anagrammi restanti... Iterare... For... String... Soluzione di due punti anagrammi restanti... Cosa farò? Risultato... Punto add... Quasi... Attenzione che non è esatto giusto... Cioè... Delego questo sottoproblema... Questo sottoproblema mi dà una lista di soluzioni... E la lista di queste soluzioni... Si aggiungono... Compongono... Le soluzioni... Del mio problema... Ad ogni iterazione... Ogni ciclo for... Avrò una lista di soluzioni possibili... E le aggiungo a quelle precedenti... Attenzione che non devo però... Aggiungere la stringa che mi arriva da sotto... Ma ci devo mettere davanti la lettera... Quindi sarà lettera più sola... Cioè... Immaginiamo di essere a livello più alto... Ok? Poso uguale a zero... Lettera uguale a C... Restanti uguale a Yao... Anagrammi restanti... Calcolo anagrammi su Yao... E mi tornerà... Se tutto va bene... Una lista di sei stringhe... Yao... Ioa... Aoi... Etcetera... Prendo queste sei stringhe... A ciascuna ci schiaffo davanti la lettera C... E le metto in una lista... Le aggiungo a una lista... Poi passo... Posizione uguale a 1... Lettera I... Sotto problema da anagrammare... Lettere restanti... C... A... O... K... A... O... Chiamo la funzione anagrammi... Resituirà... Sei anagrammi di... Kao... A questi sei anagrammi... Metto davanti la I... Perché la mia lettera... Compose uguale a 1... E le aggiungo alla stessa lista... Quindi in questa lista ne avrò... Sei... Più sei... Più altri sei con I... Compose uguale a 2... Più altri sei con I... Compose uguale a 3... Adesso poi vediamo se è vero... Spero di sì... Ma in questo ragionamento... Cosa ho fatto per non impazzire? Quando ho detto che... Questa funzione... Mi calcola... Una lista di 6 elementi... Che sono anagrammi di una parola di 3... Mi sono fermato lì... Non sono andato a vedere dentro... Come funziona... Cioè... Il codice... Ricorsivamente richiama se stesso... Ma io nel ragionamento... Non posso riragionare su me stesso... Se no... Mi casino... Allora io mi devo mettere... A un certo livello della ricorsione... Dicendo... Senti... Mi hanno dato un problema... Una parola di anagrammare... Ho qualcuno che mi risolve altri problemi... L'elenco delle parole anagrammate... Purché siano di lunghezza minore della mia... Non so perché mi abbiano chiaro questo problema... Non so come facciano a risolverli... Io sono qua in mezzo... Io sono in livello 7... Ho 6 livelli sopra... E ne avrò 18 sotto... Se è una parola lunga di anagrammare... Non mi interessa cosa fanno sopra... E non mi interessa come si fanno sotto... Io ho un compito... C'è questa parola... Decomponi il problema... Fallo risolvere... Ricomponi la soluzione... Nel fallo risolvere... Devo dimenticarmi che fallo risolvere... Sono di nuovo io... Perché non sono io... È una copia di me stesso... Che poi avrà un suo problema... Avrà un suo modo di lavorare... Quindi è uno sforzo di astrazione... In cui dire... Ok mi metto qua in mezzo... Ho uno strumento che mi... Immaginate che questa funzione... Non sia me stessa... Ma sia un'altra... Allora se fosse un'altra funzione... Non ci poniamo problemi... Ci fidiamo che faccia il suo lavoro... E qui anche... Chiaramente è una fiducia... Che il livello 1 ha nel livello 2... Il livello 2 ha nel livello 3... Il livello 3 ha nel livello 4... E poi tutto funziona... Se lo sfigatinano in fondo... Fa la cosa giusta... Perché diamo tutti fiducia a quello dopo... Ma è l'ultimo che fa il lavoro... Sai cosa? Io lo so la lista di unagram... È una lista di una stringa... Di un carattere... E poi ovviamente tutto il lavoro... Che ci rende a rimettere insieme... Allora vediamo se salta fuori... Qualcosa di decente... Tolgo questa print... Che ci confonde... E... Eccoli qua... Questa è la stampa... Che c'è nel main... Questa printani qua... E dovrebbero essere... 24 premutazioni... E dovrebbero essere... 24 premutazioni... E se andiamo a vedere... A valle di tutto... Abbiamo scritto una funzione... Di 5 righe... Mettovi... Poche righe... Con sempre lo stesso scheletro... Ricevo un... Problema... Verifico se il problema è banale... E in tal caso... Lo calcolo nel caso banale... Altrimenti... Decompongo il problema... Lo faccio risolvere... Ciascuna istanza del sottoproblema... E... Metto insieme... Le soluzioni di sottoproblemi... In questo caso... Mettere insieme... Significa aggiungere una lista... Ricombinando la parola... Poi mettendo insieme... Il pezzo che avevo tolto... Dipende poi dai casi... Ecco... La prima impressione... Che mi fanno... Gli algoritmi di corsivi... Quando li guardo... È... Ma sì... Ma dov'è... Che risolve il problema? Non c'è un punto unico... Mi aspetterai... Una parte di codici... In cui effettivamente... Scambio le lettere... In cui effettivamente... Conto un fattoriale... Che è il numero di anagrammi... Che ottengo da una parola... Invece no... Si risolve... In questo albero... Di decomposizione... Cioè... La soluzione... Metto insieme... Tanti piccoli... Aggiungi una parola... Di una lettera... Con... Con catena... La lettera che ho ricevuto... La parolina che ho ricevuto... Con la lettera davanti... Ma me lo fa fare... In tutti i modi possibili... Lo fa in tutti i modi possibili... Grazie a questi cicli forti... A ogni livello... Vanno a prendere... Il sottoproblema che hanno... E lo spezzano... Lo spezzettano... Ma ognuno... Si occupa solo... Del suo sottoproblema... Poi... In questo caso... Il sottoproblema... Significa... Stringhe... Con catenare... No... Vedi che... Stacco un carattere... E poi lo rappiccico in fondo... A seconda... Il problema... Ovviamente... Queste parti di codice... Saranno... Totalmente diverse... No... Aggiungo... Tolgo da una lista... Mettono insieme... Ma l'idea è sempre la stessa... Tra l'altro... Adesso... Osservando questo... Codice... Alla fine... Lo potrei rendere anche un pelino... Più semplice... Un pelino... Sì... Più efficiente... Nel senso che... Per esempio... Io creo... Tantissime... Liste... Perché... Ogni volta che trovo... Una lettera singola... Trovo una lista... Poi... Poi... Ogni volta che... Metto insieme... Delle liste sottostanti... Creo una lista nuova... A cui dopo... Aggiungerò... Elementi esistenti... Quindi... Al limite... Uno potrebbe dire... Creiamo una lista sola... E poi... Tutti fanno... Ad... Lì dentro... Però... Per chiarezza... Ma... Non ci importa... Se è un pelino... Meno efficiente... L'importante è... Per il momento che sia chiaro... Poi quando avremo problemi più... Diciamo così... Di maggiori dimensioni... Quello che diremo è... No ma non creiamo la lista ogni volta... Passiamo come argomento... Della funzione... La lista a cui appendere... Così la lista... Una volta sola... Fuori... Dalla ricorsione... E poi dentro la ricorsione... Semplicemente vado ad aggiungere... Le soluzioni... Man mano che le trovo... Ma... Sono ottimizzazioni... A cui arriveremo... Proviamo a vederlo... Ancora una volta in debug... Questo signore... Allora... Adesso la funzione è completa... Il metodo è completo... Quindi vediamo cosa fa... Allora... Al primo livello sappiamo che... La parola non ha lunghezza 1... E quindi vado in questo ramo S... Che era quello che già conoscevamo... Farmi togliere questo breakpoint... Che avevo messo qui... Quindi vediamo come ragiona il livello 1... Il livello 1 dice... Senti... A... Gli anagrammi restanti... Che sono... Gli anagrammi delle parole da 3... E poi in questo ciclo for sotto... Crea poco per volta... Il risultato... Il risultato... Aggiungendoci... 1... 2... Il risultato è qua... 3... E 4 parole... Questo è il semplice lavoro... Non che fa... Il livello 1... Il livello 2 farà la stessa cosa... Con la differenza che lui riceve... In argomento... Una stringa da 3... Quindi farà 3... Interazioni successive... In questo caso... Ho fatto la prima... La prima interazione sul for... Poi vado avanti... Sì... Scusate... Aggiunge 6... Non 4... Poi vado avanti... Alla posizione successiva... Lui estrae... Decompone il problema... A questo punto... Il problema è... Calcolo gli anagrammi di Kao... Chiama la funzione... Che lo fa... E si trova gli anagrammi... Delle lettera restanti... Che sono le 6 stringhe... Anagrammi di Kao... Ok... Quindi dal punto di vista del singolo livello... Lui fa un lavoro semplice... Semplicemente perché si fida... Della funzione che viene chiamata... Ovviamente... Prima o poi arriverò qua... Adesso ci metto un breakpoint... Qui fa gli add... Che devo fare 6 volte... Così vediamo anche il punto di vista... Dell'ultimo... Della catena... Ecco... Quando ho chiamato... Anagrammi restanti... Un certo numero di volte... Vedo che qua sono a livello 4... A un certo punto... Arriverà una parola che è... La O... Arrivano tutte... Tante volte... Le singole lettere... E... Semplicemente dice... Ok... Quali sono... Mi hanno dato una parola... Qual è la lista degli anagrammi di O... Beh lo so... È una lista fatta di un elemento solo... Che costruisco qua... E... Dentro il risultato... Ci metto una stringa sola... E restituisco questa... Che tornerà... Ogni volta che faccio il return... Esco da uno dei livelli della ricorsione... Chiaramente... E ogni volta questa lista ovviamente cresce... Alla fine... Quello che... A un certo livello di... Astrazione... Noi abbiamo un codice di questo tipo... Adesso non abbiamo ancora... Questo problema... Era semplice... Quindi non ci chiede ancora... Però abbiamo una procedura ricorsiva... Che avrà una certa serie di problemi... Di parametri... E poi avrà... Deve avere un'informazione... Sul livello a cui si trova... Allora... Nel nostro caso... Il livello era di fatto... La lunghezza della stringa... O la lunghezza della stringa iniziale... Meno la lunghezza della stringa che ricevi... Insomma... Qualcosa che ti dice... Quanto sei profondo... Potrebbe essere... Una variabile che si incrementa... Una variabile che si decrementa... Ma devo capire a che livello sono... Ma a che punto sono... Nella profondità delle chiamate... Perché a un certo punto... Devo scoprire che sono arrivato al fondo... Quindi mi serve... Un livello di indicazione... Di quanto sono profondo... Nelle chiamate ricorsive... Ma anche... Della dimensione del problema... Che sto trattando... La chiamo geneticamente level... Poi in ogni caso... Sarà una cosa diversa... Per noi... Era la lunghezza della stringa... Poi avrò sempre un blocco... Di terminazione... Deve esserci... Se dimentico... Il blocco di terminazione... La ricorsione non fa nulla... O... Se sono fortunato... Come prima... Si esaurisce... Perché a un certo punto... Non genera più nulla... Di nuovo... Oppure rischia di andare avanti all'infinito... O beccare un'eccezione... Quindi devo sempre controllare... E... Non devo cercare... Di essere troppo intelligente... Perché io... Ho impostato... La condizione di terminazione... Su un anagramma... Di parole lunghe... Un carattere... Voi mi aveste anche potuto dire... Sì vabbè... Ho capito... Ma potevi fermarti a due... Fermati quando la parola è lunga... Due caratteri... E costruisci come lista di risultati... ABBA... Cioè... Le due stringhe... Fatte con la parola... Le due due lettere... E le stesse due lettere scambiate tra di loro... Certo... Avrei potuto tranquillamente fermarmi a due... Anziché a uno... Consideravo banale il problema dell'anagramma di una parola a due... Anziché considerare banale il problema dell'anagramma di una parola a una letta... Però chi me lo fa fare? Insomma... Se il meccanismo generale funziona... Mi fermo magari al caso più semplice possibile... La cui soluzione è la più lineare e semplice possibile... E... Rischio meno di comporre... Cioè di creare degli errori... Quindi... L'intelligenza lasciamola fare alla ricorsione... Noi cerchiamo di trovare il caso terminale più semplice e lineare possibile... Ma dobbiamo metterlo sempre... E poi di solito nel caso terminale... Per definizione del terminale... Esco dalla funzione... E poi c'è il caso normale... In cui genero con un foro... Con un while... Insomma... Secondo del tipo di problema... Genero... Le nuove soluzioni parziali... E... Chiamo la stessa funzione ricorsiva... Passando il parametro di cui ho bisogno... E l'indicazione del fatto che sono andato avanti di uno nel livello... E poi metto insieme le cose... Qui ci sono alcune cose in più... Ad esempio... Qui c'è un if filtro... Che non si applica in questo caso... Ci sono dei casi in cui so... Posso già sapere a priori che non mi serve andare a esplorare tutte queste combinazioni... Quindi non sono obbligato a fare una chiamata ricorsiva se a priori so già che non serve... Non mi dà nessuna soluzione nuova... Qua è più complicato a farsi che a dirsi... Se io avessi una parola da anagrammare che contiene due volte la stessa lettera... Non nel senso... No? Casa... Allora... C faccio gli anagrammi... A faccio gli anagrammi... S faccio gli anagrammi... Ma la seconda A non mi aggiunge nulla di nuovo... Quindi se a un certo livello ho una lettera che compare più volte... Le volte successive non serve che io faccia le chiamate ricorsive... Perché intanto mi daranno sempre le stesse cose... È un'ottimizzazione per carità... Però a volte uno dice... Se io riesco a bloccare alcune chiamate ricorsive... Ho a parità di risultato... Cioè se sono a priori... Diciamo matematicamente... Teoricamente... Che quelle soluzioni che troverò lì dentro... Non aggiungono nuove soluzioni... Ma replicano soluzioni già esistenti... Oppure creano soluzioni peggiori... Allora potrei anche evitare... E quindi taglio un intero ramo di chiamate ricorsive... E poi a volte... C'è... Una fase che noi chiamiamo di backtracking... Cioè rimettere le cose a posto... Nell'implementazione che abbiamo fatto noi sugli anagrammi... Abbiamo ricevuto dei parametri... E abbiamo restituito delle liste che ogni volta erano nuove... Quindi... La chiamata della funzione... Del metodo... Non ha modificato nessun dato... Al di là dei propri dati locali... Ok... Quando però per ragioni di efficienza... La chiamata della funzione... Modifica dei dati... Quindi modifico qualcosa... Faccio ricorsione... Poi dopo che questa ricorsione è finita... Prima di ritornare al mio chiamante... Devo rimettere a posto le cose che ho modificato... In modo che il mio chiamante si veda... I dati... Diciamo così... Non sporcati dalle chiamate successive... Questo lo vedremo soprattutto quando abbiamo gli array... Antiché le stringhe... E allora c'è una parte di codice che significa... Rimetti le cose come le hai trovate... Qui... O ci facciamo delle copie... Lavoriamo sulle copie... Oppure modifichiamo gli originali per ragione di efficienza... Ma poi li rimettiamo a posto... Quindi alla fine... A parte il blocco E lo vediamo una volta prossima... Alla fine ogni... Procedura ricorsiva sarà grosso modo dello stesso tipo... E basta identificare questi frammenti di codice... Per le varie parti della chiamata... Ecco io... Adesso proviamo a fare un run con una parola più lunga... Che ci dia più soddisfazione... Ma quello che volevo proporvi... Lo faremo mercoledì... E' di provare a risolvere un problema un pochino più tosto... Che non è la grammi... E' questo... Delle otto... Diciamo... In gergo si chiama problema delle otto regine... O delle n regine... Cioè immaginate di avere una scacchiera... Otto per otto... E di voler posizionare su questa scacchiera... Otto regine... Messe in modo che non si possono mangiare... E voi sapete che la regina mangia... Può muoversi in verticale... In orizzontale... In diagonale... Per qualunque numero di caselle... Quindi il problema per noi significa... Posizionare otto regine su una scacchiera otto per otto... O in generale... Posizionare n regine su una scacchiera n per n... Impostiamolo con n... Perché magari non partiamo dalla scacchiera otto... Partiamo con una scacchiera più piccola... Per non avere... Tempi di esecuzione troppo elevati... Dico n perché di sicuro non ne potrò mettere n più 1... Visto che... Per ogni riga ce ne può essere una sola per definizione... Perché se ne metto cinque regine su quattro righe... E due per forza saranno sulla stessa riga... Cioè... Cinque regine su quattro righe... E saranno due per forza sulla stessa riga... E si mangiano... Al massimo n... Io non sono neanche sicuro che si possa... Mettere otto regine su una scacchiera d'alto righe... O cinque regine su una scacchiera d'alto righe... Perché magari non si può... Magari sono fatte in modo che si mangiano... In qualunque modo io le metto... Cioè... Ne potrò mettere solamente una in meno... Non lo so... È quello che voglio scoprire... Ma se riesco... Voglio trovare tutte le combinazioni... In cui le posso disporre su una scacchiera... Ok? Allora... Vi lascio... Pensarci... E mercoledì proviamo a rivolgere questo insieme... Che è un gradino di complessità più in su... Grazie...